Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. Qualche problema in A1 per veicolo fermo in avaria sale a 7 km la coda verso nord tra Firenze e Scandici e B1 variante. In A11 code per traffico verso Firenze tra B11 Firenze Nord e Firenze Peretore tra Pistoia e B1 con l'A1. Ieri via in Fipili per lavori 4 km di coda verso Livorno tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest. Direzione Firenze rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Montelupo e Ginestra per traffico tra Ginestra e Firenze e Scandici. Per chi proviene da Firenze inoltre coda in uscita a Santa Croce. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze tre lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli ai Pozzetti in Ponte Spini, via Lorenzo il Magnifico, via Poliziano e l'asfaltatura nella zona di via Berio. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!